Tu l'hai mai visto? Il prossimo giro Non gli è suonata la campana Vai Matilde! Vai Matilde! Guarda che la Gaia parte adesso Ok, il prossimo giro Punti Ogni doppio, ogni pari Punti dai 10 Punti dai 10 Della Punti dai 10 111-79 Punti dai 10 Punti dai 10 Grazie mille, ragazzi. 108, 107. Vai, 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 vai. Con le mani dietro. Resta molto avanti. Dai, dai, dai. Siamo alla pana dei meno 7. Perché stai a dire? Oltre niente da questo paese. Vengono la ventinaria. In un'ora. Dai, 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 vai, 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 vai. Però dovrebbe rallentare adesso. Non mi doppia la mattina di te. 107, 108. Eh, ma se ne va a me, se che non... Vai, Goya, stai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Ognuno una alla fine. Bene. Vai che c'ha fatto. Vai, vai. Almeno una. Come si sente distogito? 78. 12.11. Di me a rinanna. E 2.4. Di me. E siamo. dai Sara l'ultimo dai Sara secondo o terza l'ultimo giro dai Sara dai Grazie